Oggi parliamo di acqua, parliamo di gestione efficiente, lo facciamo con Daniele Del Negro di Maddalena. Di cosa ci parlerai oggi? Buongiorno, intanto parleremo innanzitutto sulla programmazione e l'assunzione dei contattori. Finalmente in Italia, dopo parecchi anni, è uscito un decreto legislativo, il 155, che parla della verifica per i messi contattori, quindi darà molto spunto alla verifica, quindi la sostituzione programmata dei contattori, per un'efficienza proprio degli enti che andranno a gestire l'apparato idrico della loro rete in sostanza. Cosa fa Maddalena sul mercato? Maddalena diciamo che è leader italiano, non mondiale, sull'apprecchiatore di misura. Noi siamo dentro in quasi tutti gli enti pubblici e aziende private sulla metodologia legale, sui contattori d'acqua in sostanza e da qua abbiamo anche preso spunto per nuove attività sul mondo del calore che ci sta dando parecchi frutti in sostanza. Grazie Daniele Del Negro. Prego, buongiorno. Grazie. 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 Grazie.